Ciao ragazzi oggi vi insegno un paio di cose qui per la quinto episodio dei nei boschi della val di sole vi insegno un paio di cose vi faccio vedere anche qualche cosa veramente carina allora questa qui è una russola la riconoscete per due motivi prima di tutto per il colore ce ne sono una marea di tipi quindi i colori sono veramente variabili molti a volte vengono scambiate per porcini la verità che la cosa più semplice è controllare qua sotto questa ha le lamelle per cui è una russola non vi so dire con precisione quale sia che russola sia quindi vi consiglio sempre di non raccoglierle se non siete sicuri o se le raccogliete rivolgetevi sempre un centro micologico però la differenza che c'è tra questa e un porcino è sicuramente prima di tutto le lamelle seconda cosa il gambo della russola che adesso non tocco perché non voglio rovinare il fungo perché crei danni al bosco se rovini il fungo anche il gambo del della russola si spezza come un gessetto è molto particolare molto particolare quindi assolutamente un bel fungo sempre legato i funghi per farvi capire cosa non bisogna fare se vi ricordate vi ho fatto vedere il satanas dell'altro giorno che era bello così ho spiegato perché non era un porcino buono guardate cosa è successo qualcuno l'ha presi e l'ha spaccati ora se pensate che questa cosa qua non crei danni vi sbagliate di grosso perché spaccare un fungo è una delle cose peggiori anche perché il micelio del satana spesso è intrecciato col micelio di un fungo porcino normale quindi spaccare un satanas rovini i miceli rischi di rovinare il micelio quello che c'è sotto e quindi uccidere anche l'eventuale crescita di porcini non bisogna mai rompere i funghi nei boschi dovete tirare su solo quelli che siete sicuri di dover tirare su altra cosa da non fare nel bosco qualche bestia ha tirato una bottiglia d'acqua questa questa qua sarebbe da prendere e infilare da qualche parte quindi tenete il bosco pulito mi raccomando e rispettate i funghi tutti anche quelli non buoni perché servono perché magari non sono buoni per noi ma sono buoni per altri animali che tengono in piedi l'ecosistema della natura ecco ragazzi questo è un porcino è una brisa anche detto in dialetto guardate che è un bel fungo perché questo è fresco devo pulirlo ancora infatti adesso prenderò il coltellino e pulirò tutte queste impurità che vedrete perché perché il micelio è importante ed è quello che salva il fungo questo qua insomma quindi quando strappano i funghi questo va a perdere la differenza guardate intanto le spore del porcino sono assolutamente verdi il gambo è bianco sano e ha le spore come scusate il sotto cappello rispetto alla russola molto a spugna mentre invece la russola come abbiamo visto ha le lamelle quindi quando trovate questa cosa qua a parte i satanas che hanno le spore rosse e il gambo giallo il resto sono tutti porcini buoni